In provincia dell'Aquila si viaggia sulle 800.000 somministrazioni di vaccini al giorno. Sono già iniziate le terze dosi alle categorie previste. La novità è che chi rientra in queste categorie e ha fatto la seconda dose da sei mesi, può presentarsi autonomamente ai centri vaccinali senza attendere la chiamata della ASL. Ci sono tre canali attivi, attendere la chiamata della ASL oppure prenotarsi tramite posti italiane, dove da qualche giorno è stata aperta la piattaforma per Riover 60, oppure, come si diceva, andare direttamente ai hub senza prenotazione. Questa modalità è stata attivata in prevalenza per favorire le prime dosi a chi ancora non riceveva il vaccino. La ASL è già partita con ovvero tanto operatori sanitari fragili e ultra sessantenni da qualche giorno. Devono essere trascorsi sei mesi dalla seconda dose, perché si tratta della dose cosiddetta booster, altrimenti vi è anche il caso della dose addizionale per chi, diciamo, per la persona fragile si può fare la dose addizionale a distanza di 28 giorni dalla seconda, però sono casi, diciamo, rari. Noi stiamo procedendo, diciamo, di buon passo, diciamo, con la somministrazione della terza dose, abbinandola all'antinfluenzale laddove è necessario e seguendo chiaramente le indicazioni della struttura commissariale del governo per le varie categorie, quindi gli ultra 80 anni, gli ultra fragili e le strutture residenziali, cui le abbiamo pressoché ultimate. Per quanto riguarda, per esempio, il Johnson & Johnson che è nato come vaccino monodossi, avete delle indicazioni anche per chi non rientra in queste categorie, per i più giovani, ad esempio? Beh, per i più giovani ancora no, però ormai si è detto che anche per chi ha fatto il Johnson & Johnson dopo sei mesi va fatta la dose booster con un vaccino a RNMA, per cui, diciamo, a breve partirà molto verosimilmente anche per la categoria al di sotto dei 60 anni. Molti stanno scegliendo di ricevere assieme alla terza dose anche il vaccino antinfluenzale, anche se c'è una percentuale che ha timore della doppia inoculazione, che però la ASL consiglia soprattutto ai fragili, altrimenti si può fare anche dal medico di base e anche la campagna antinfluenzale è molto importante quest'anno. In città, intanto all'Aquila, sono rimasti attivi gli hub di San Vittorino e quello di Bazzano, chiuso il tendone di Piazza Duomo, che è stato molto utile soprattutto nel periodo dell'estate.